25 uomini al giorno 25 uomini molto giovani sono i ragazzi della fiera in campo chi sono gli uomini che faranno l'impresa luigi saviolo dell'azienda agricola saviolo di salasco riccardo d'ambrogio dell'azienda agricola d'ambrogio franco di lamporo umberto guglielmotti dell'azienda agricola guglielmotti gianni di prarolo vercelli e naturalmente molti altri